Il combustibile fossili Quali l'energia eolica, l'idroelettrica La fotovoltaica, la geotermica Che abbiamo visto E cioè l'acqua, la luce, il vento e il calore Sono di vitali Non è successo nulla Chiami il vidello per favore La fotovoltaica, la luce, il vento e il vento La fotovoltaica, la luce, il vento e il vento La fotovoltaica, la luce, il vento e il vento e il vento La fotovoltaica, la luce, il vento e 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.